Come vie vie, vie vie, vie vie Vorrei provare entrambe Usare Spide Life per il fuoco Sono sempre a fuoco anche se vado Ah, quando vado giù Ma prima, come sempre Alla la c***o dei gane Dai, dai, dai Come dire? Spontaneamente faccio che scrivo Ho fritto anche il paderno, ragazzi No, facciamo questo Ok Caro diario È stata una giornata molto interessante Facciamo quella che facciamo E no, e no, e no, e no Ma non avevi stato un c***o? Ma non avevi stato un c***o? Un po' Eh, questa non si vede, non ti si vede tutta Ok Basta la seguire l'anca Quando sei ausa O prendo la gamba o prendo te O ti fai più dietro L'anca, prendi l'anca Qua se mi faccio troppo indietro Ti piuco Tu Qua devo prendere le mani o devo prendere te? Prendi le mani E rifalla Eh, ti segui le mani, no? Eh, sì Ci sto provando Quando stai giù? No, tipo così È la tua faccia che non mi piace così Eh? È la tua faccia che non mi piace così Beh, vedi là No, 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 rifallo, rifallo, rifallo Avvisami sempre 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 mucho 3, 2, 1 No, rifallo, rifallo Eh, buonasera No, sono io Buonasera 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 Eeeh stop! Andiamo! Vorrei andare un po' più dietro Ragazzi è un self tape, non è che deve essere Hollywood E lì silenzio! Va bene, ci siamo! Vai! E' entra il personaggio di Antigone Il personaggio in questo momento ha da fare e non entra Ha chiuso la quarta chiave Va bene, basta E3 E1 Non posso scosare tutto il parlato, vai, come quando ero bambina. Ah si, allontaniamoci anche. Ora c'è il fuoco e sta registrando, vai. Tanto ti vedi no? Sì, come devo mettere? No, non posso scosare. Ok. Allora devo fare un video e mi serve questo spazio. A te serve? No, se devi passare me lo devi dire prima. Ma prima di passare, non che? Oh, cioè così come sei tu ora? Questa altezza? O giù? No, poi vado giù. Se vado giù mi si vede no? Eeeh, prova. Ma dove hai fatto il pavimento? No, il pavimento c'è. Prova. Miss Pitch is my recital, I think it's very vital. To rock or rhyme let's try on time. Ah, preciso. A posto. Quindi, what do you want? Eeeh, sta registrando? Sì. Ok, vai bene. Andiop!